Come avete visto nei video precedenti i lavori al van sono terminati Abbiamo camperizzato il van a nostra immagine e somiglianza con tutti i dettagli che volevamo Ma per viaggiare su strada serve una cosa che ci avete sempre chiesto Quando abbiamo comprato il furgone ce l'avete chiesto Mentre mettevamo l'isolamento ce l'avete chiesto Mentre facevamo l'impianto elettrico ce l'avete chiesto Addirittura alcuni di voi ci hanno accusato più volte di non aver provveduto alla parte più importante di una camperizzazione La famosissima omologazione ad autocaravan Ma dopo tutto questo vi pare che non saremmo stati così precisi? Facciamo un attimo di chiarezza perché da un po' di video che ci vedete dentro al capannone, fuori al capannone in giardino In mezzo alla strada No dentro al capannone Il 7 novembre siamo usciti definitivamente dal capannone L'8 novembre siamo andati ad omologare il furgone ad autocaravan e da lì l'abbiamo lasciato fermo nel giardino di casa Quindi tutte le ultime spiegazioni e gli ultimi lavoretti che avete visto nei video sono stati fatti a casa di Sara Ma sia chiaro che tutti gli spostamenti che abbiamo fatto con il van sono stati fatti in maniera legale Perché proprio dall'8 novembre il nostro mezzo è omologato autocaravan Quindi potevamo circolare senza problemi Di oggi vi spiegheremo come abbiamo fatto ad omologare il nostro furgone ad autocaravan in Italia E sottolineiamo in Italia Generalmente in Italia un furgone camperizzato con un allestimento fisso quindi abitato alla lamiera Deve essere omologato per poter circolare su strada Esistono principalmente due tipi di omologazione Ad autocaravan o ad autocarro ad uso abitativo Ci sono delle piccole differenze che vedremo più avanti nel video Ma con entrambe il mezzo può circolare tranquillamente senza problemi Esiste poi il famoso allestimento ammovibile quello che avevamo noi sul nostro vecchio minivan Camillo In cui l'allestimento non è fissato in maniera permanente alla lamiera E diciamo che si può circolare senza omologazione Se infatti l'allestimento è ammovibile senza l'utilizzo di attrezzi Ovvero smontabile senza utilizzare cacciaviti, trabbano, abitatori e altri utensili Allora sareste legali anche se il mezzo è omologato autovettura o autocarro Infatti per il codice della strada è come se stesse trasportando degli oggetti E di conseguenza questo non va a modificarne l'uso reale Ovvero quello di autovettura o di autocarro Ovviamente sappiamo tutti che questo è un escamotage alla legge Perché di fatto se il mezzo possiede una camperizzazione dovrebbe essere definito un autocaravan E tutte queste cose ovviamente non ce le siamo inventate Ma le trovate nell'articolo 164 del codice della strada italiana Capiamo bene che se vogliamo un van ben fornito Con una cucina, una doccia, un garage Insomma una camperizzazione seria come quella di Amarillo Il nostro van che abbiamo camperizzato in 10 mesi Serve una camperizzazione fissa Altrimenti balla tutto e quando si cammina si distrugge tutto E' un casino Quindi Come e dove si fa l'omologazione? Prima di rispondere a questa domanda ovviamente serve camperizzare il proprio van Perché anche noi all'inizio della camperizzazione la prima domanda che ci siamo posti è Come potremo omologare il furgone? Questa cosa ci dava tanta frustrazione perché non sapevamo la risposta Però molte volte bisogna concentrarsi prima sul pensare correttamente a tutti gli step da fare per arrivare al traguardo Ovvero la realizzazione del proprio van Taglio di lamiera, oblò, isolamento, finestre, impianto elettrico, bagno con doccia, impianto idrico Mobili, pavimento, letto, portapacchi Insomma c'è un sacco di roba da fare Però è normale farsi questa domanda perché anche noi all'inizio avevamo la paura che stessimo facendo del lavoro inutile sprecando tempo e soldi Perché se non fossimo riusciti ad omologare il van cosa sarebbe successo? Ora possiamo rispondere alla domanda iniziale ovvero dove omologare il furgone? Prima di continuare vi ricordiamo che sul nostro sito www.daninoestara.it potrete acquistare la lista di tutte le componenti che abbiamo utilizzato per camperizzare il nostro van fai da te L'elenco è super dettagliato abbiamo scelto le componenti con la massima qualità al minor prezzo Per ogni oggetto è presente il link diretto all'acquisto Incluso nel prezzo avrete anche accesso a tutti gli schemi degli impianti del nostro van Ora continuiamo La risposta che molti darebbero è in Germania Il tubo tedesco permette di omologare ad autocaravan un furgone fatto con una camperizzazione fai da te Bisogna rispettare dei requisiti ma si può fare In Italia invece con la motorizzazione non è possibile da privati Bisogna essere per forza un allestitore Quindi detta così capite che se volete effettuare l'omologazione in Italia dovreste affidarvi a un allestitore anche per la camperizzazione Se il mezzo è italiano per effettuare l'omologazione in Germania bisogna seguire un ITER Bisogna prima immatricolare il mezzo con targa tedesca Effettuare la conversione d'uso ad autocaravan presso il TUV E successivamente immatricolare il mezzo italiano con la nazionalizzazione della targa In questo modo il mezzo passerà da autocaravan tedesco a autocaravan italiano Tutta questa pratica può essere fatta privatamente ma con qualche complessità Per esempio la compilazione di tutti i documenti in lingua tedesca La necessità di conoscere una persona affidata a residenti in Germania in modo tale da poter effettuare un passaggio di proprietà Così da poter inizialmente immatricolare il mezzo con targa tedesca Oppure se si può affidare a delle agenzie italiane come per esempio omologare.it Si paga una cifra fissa e ci pensano loro a effettuare tutta la procedura In tutto questo però c'è un piccolissimo dettaglio Per effettuare la nazionalizzazione della targa Ovvero per far passare il mezzo da targa tedesca a targa italiana Ci vogliono almeno tre mesi Con questa consapevolezza nella testa agli albori della nostra camperizzazione a febbraio 2023 Abbiamo pagato l'intera cifra a una di queste agenzie per aiutarci con l'omologazione con il TUV tedesco Perché a quel tempo pensavamo che l'omologazione in Italia fosse impossibile A meno che non fossimo stati degli allestitori Era ovviamente il problema dei tre mesi di nazionalizzazione Però la nostra idea iniziale era quella di recarsi a marzo in Germania con un allestimento fittizio Ovvero con i requisiti minimi necessari per immatricolare il mezzo ad autocaravan con il TUV tedesco Secondo la procedura dopo l'omologazione in Germania saremmo tornati in Italia con una targa di prova tedesca Che avrebbe avuto la validità di un mese E nel prezzo era inclusa anche l'assicurazione La nostra idea era di utilizzare la targa di prova solo per tornare in Italia Firmarci al capannone e continuare i lavori Perché sapevamo che sarebbero durati più di tre mesi E nel frattempo che lavoravamo per terminare la camperizzazione sarebbe dovuta arrivare la targa italiana definitiva In ogni caso la validità della targa di prova e della sua assicurazione si può estendere Con un costo fisso al mese Questa tipologia di agenzie ti danno la lista completa dei requisiti minimi per effettuare la camperizzazione Solamente a pagamento completato dell'intera cifra Abbiamo pagato Abbiamo ottenuto la lista E abbiamo visto che questi requisiti minimi non erano poi così tanto minimi E che il tempo necessario per creare questa camperizzazione fittizia ci avrebbe allungato di gran lunga la nostra camperizzazione Poi c'erano delle richieste che non ci piacevano Come dei fori sul pianale abbastanza grandi Che non avremmo potuto poi risfruttare altrimenti Quindi ci siamo tirati indietro Abbiamo richiesto i soldi indietro L'agenzia si è trattenuta la caparra per cui abbiamo perso dei soldi Ma se non altro siamo felici di come è andata perché abbiamo scoperto un'altra soluzione Quasi al termine dei lavori cercando e cercando Abbiamo trovato delle agenzie che effettuavano le omologazioni in Italia Senza dover portare il mezzo in Germania Che poi dalla nostra città era abbastanza lontano Ed il risultato sorprendente è che ci sono molte aziende che fanno questa cosa in Italia E state attenti perché i prezzi richiesti sono molto differenti tra loro Pensate che abbiamo trovato un'azienda che ci ha chiesto 4.500 euro Almeno era vicino casa Noi però abbiamo speso molto meno Ma perché la motorizzazione permette l'omologazione ad autocaravan di un mezzo fai da te alle aziende e ai privati no? Cosa c'è sotto? Non possiamo rispondere con certezza a questa domanda Già nel secondo momento Quello che pensiamo noi E questa sottolineiamo è la nostra opinione Perché queste aziende possano avere, chiamiamole, delle amicizie all'interno delle motorizzazioni Inoltre per far passare l'allestimento probabilmente dichiareranno che il mezzo l'hanno fatto loro Quindi potrebbe essere un discorso un po' uma uma Ci potrebbe essere dell'osco al di sotto Però tutte le aziende che abbiamo chiamato rilasciano regolare fattura Quindi dal punto di vista finanziario è tutto legale Alla fine dopo svariate chiamate preventive siamo riuscite ad accordarci con un'azienda di Padova Ragazzi siamo pronti Eccolo, eccolo Cinque in punto e stiamo entrando in autostrada Sono le ore 6.42 Finalmente c'è un po' di luce quindi guidiamo molto meglio E non mi addormento Facciamo colazione Guardate che bella alba Siamo giunti a destinazione Sulla nostra destra ci sono altri mezzi che sono con noi oggi Anche un altro crafter, guardalo Sono le 9, ci hanno detto di lasciare il van Qui lo verremo a ritirare oggi pomeriggio E lo stiamo lasciando in questo modo Vogliono il tavolo già montato così vedono che c'è la dinetta Abbiamo messo i tappeti perché la gente salirà sicuramente con le scarpe Questa cosa Sara non piace Gli ho lasciato il pannellino qui un po' aperto per fargli capire che questo è il mobile dell'impianto elettrico Sinceramente non so se lo apriranno o meno ma vabbè Ciao ciao van E ora andiamo a fare un giro nella città dove Tutto è venito Ci ha ospitato per due anni della magistrale Ragazzi ci sono le 4 e mezza Siamo distrutti perché da stamattina che giriamo per Padova Ci hanno finalmente chiamato dicendo che il mezzo è pronto Siamo molto emozionati per questo item Soprattutto perché non ci siamo riposati un attimo Dato che ieri abbiamo lasciato il capannone Oggi ci siamo svegliati alle 4 di mattina per venire fino a qui Quindi ancora siamo in after Tutti i mezzi sono aperti Soprattutto vuol dire che è posto no? No ma che tempo il nostro nessuno sa perché ci ha chiesto perché ma va bene E abbiamo pure lo scambiatore di calore Stiamo aspettando da ormai circa un'oretta Abbiamo pagato è andato tutto bene quindi non c'è problema Stiamo morendo un attimo di freddo Perché dobbiamo ancora installare il riscaldatore Però abbiamo acceso le piastre riscaldamento pavimento che comunque sta facendo il suo lavoro Sul pavimento ci sono 26,5 gradi Ci danno un foglio provvisorio che ha una validità di 30 giorni Che funge da libretto In attesa che ci spediscono il libretto vero e proprio Se però il libretto non viene spedito entro questi 30 giorni dobbiamo richiedere a loro di nuovo questo foglio che ce lo rinviano e così l'iter va avanti Questo foglio va bene nel momento in cui si vuole stipulare l'assicurazione Ci hanno dato queste informazioni i ragazzi dell'agenzia dell'omologazione ma non abbiamo trovato nessuna assicurazione che accettasse il foglio provvisorio Serve il libretto originale Non fidatevi sempre di quello che vi dicono In questo momento questo è un furgone quindi ha un'assicurazione da furgone Noi ovviamente dobbiamo cambiarla in assicurazione da autocaravan Allo stesso momento però dovremo anche fare il passaggio di proprietà perché questo mezzo attualmente è intestato al pari Danilo E noi vorremmo ovviamente intestarlo ad Danilo Non l'abbiamo fatto prima perché ce l'hanno sconsigliato Avremo pagato tantissimo di assicurazione essendo un autocarro e avendo un'età non superiore ai 25 anni Quindi lo faremo una volta che arriverà il libretto perché ci hanno detto che in realtà questo foglio non va bene per effettuare il cambio di intestatario Stiamo aspettando da più di un'ora perché l'agenzia sta aspettando la ricezione di questo foglio da parte di un'altra agenzia Probabilmente la motorizzazione ma non lo sappiamo Con grande felicità vi annunciamo che abbiamo Che c'è? No stavo leggermente Non ho fatto paura Controlliamo che sia tutto giusto perché non vorrei che Targa GA117JT Categoria autocaravan Siamo autocaravan Yeah Autocaravan Questo incubo dell'omologazione ci perseguita da settembre quando avevamo già deciso di iniziare questo processo In realtà alla fine è andato tutto in maniera strastrana Dovevamo far controllare il mezzo da sotto da un amico di famiglia Che ci ha alzato il mezzo per vedere se sotto sarebbe potuta entrare la tanica che avevamo scelto all'inizio per le acque griglie Facendoci salire sul ponte ha pesato ogni asse e quindi abbiamo avuto il peso totale del nostro veicolo E la cosa assurda è stata che il giorno dopo abbiamo contattato questa agenzia che ci ha aiutato E ci ha chiesto il peso Se non fosse stato per la tanica dell'acque grigie saremmo dovuti andare Su una pesa pubblica Sarebbe stato molto più lungo il processo Secondo me è una cosa come tipo segno del destino Cioè assurdo Purtroppo non ci siamo trovati benissimo con il loro servizio Quindi non vogliamo fare il nome dell'azienda e tra poco vi diremo anche il perché La cosa positiva è che siamo riusciti ad ottenere l'omologazione ad autocaravan E non ad autocarro d'uso abitativo Come molte altre aziende ci volevano proporre La differenza tra queste due destinazioni d'uso sono svariate Ci sono vari pro e vari contro per entrambe E vi consigliamo di andarvi a informare in rete per capire qual è quella che fa il caso vostro Uno dei grandi pro dell'omologazione ad autocaravan è che assicurazione e bollo sono molto ridotti Con l'autocarro ad uso abitativo no avete i costi da autocarro Con l'autocarro ad uso abitativo si può parcheggiare nei posti vietati agli autocaravan In ogni caso state attenti a quello che vi propongono e a quello che vi dicono Informatevi voi in primis e chiamate quando avete le idee chiare Quindi per l'omologazione ad autocaravan del nostro furgone autocarro camperizzato da noi Fai da te abbiamo speso un totale di 2074 euro Potete vedere la fattura quindi non vi diciamo cavolate abbiamo speso quella cifra In ogni caso ci è convenuto rispetto al TUV tedesco in quanto l'intera pratica affidata a un'agenzia sarebbe costata 2500 euro non considerando però le spese del trasporto Non siamo felici di com'è andata alla fine e questa è anche la conseguenza per il quale in questo momento ci troviamo qui con questo sfondo Ancora non vi diciamo dove siamo ma siamo veramente lontani da casa Purtroppo ci siamo fidati troppo delle parole Ci avevano detto che una volta andati a Padova avremmo avuto il libretto provvisorio E quello effettivo sarebbe arrivato massimo un mese dopo Chiariamo il fatto che noi siamo andati a Padova l'8 novembre Quindi speravamo di avere prima di Natale il libretto effettivo E di conseguenza avevamo già organizzato il nostro primo viaggio Il 2 gennaio 2024 saremmo dovuti partire con il nostro van finalmente da Genova in direzione Tangeri Ci saremo imbarcati e ora staremo surfando in Marocco Però ovviamente in questo momento non ci troviamo in Marocco E non ci troviamo in Marocco perché purtroppo il libretto non è arrivato in tempo Non saremmo potuti partire con il foglio provvisorio perché prima di tutto in Marocco non lo accettano Perché siamo fuori dall'Europa quindi vogliono il libretto originale Inoltre avremmo dovuto effettuare il passaggio di proprietà e l'assicurazione ad autocaravan In cui per entrambe le procedure serve anche qua il libretto effettivo Tornando a noi Vi lasciamo immaginare ora voi dove possiamo essere in questo momento E se siamo con il van o meno Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo nei prossimi video Comunque per la cronaca il libretto alla fine è arrivato il 15 gennaio Abbiamo deciso di non fare il nome dell'azienda a cui ci siamo affidati perché ci siamo trovati male Se volete più informazioni a riguardo potete commentare nel video oppure iscriverci in privato